Attirata in questa casa di Milano con la scusa di un servizio fotografico, poi drogata e sequestrata per una settimana. L'anglo-polacco Lucas Powell Erba, 30 anni, è stato arrestato per il rapimento di una modella britannica. L'uomo chiedeva un riscatto di 300.000 euro in bitcoin, minacciando di mettere all'asta la ragazza sul deep web. L'autore di questo reato gravissimo era una persona pericolosa. Tenete presente che si è anche accreditato come persona disposta ad effettuare soluzioni finali, come dice lui, come killer a pagamento e come operatore di un'organizzazione che opera sul deep web, che offre servizi di mercenariato, attentati con le bombe e sequestri di persona. La giovane è stata rinchiusa in questa baita dilemia nel torinese, ma inaspettatamente il sequestratore l'ha poi riportata al consolato britannico di Milano, dove è stato arrestato. L'inchiesta è solo agli inizi, per la polizia l'uomo potrebbe aver anche millantato la militanza nel cosiddetto Black Death Group.